ci vediamo lunedì, la spesa vuoi? si si, ora c'è un'altra lista, allora che cosa ti serve? cose utili e importanti, tutte le cose buone che stanno, e poi come ti vanno le giacche? vuoi andare in palestra, vuoi gli abiti alla moda, gli abiti firmati e poi ti sfondi no mi sfondi su una porcheria, allora cosa vuoi? proceto crudo o il palma o il san daniele o il parmatino o il san daniele, che non puoi digerire e poi questo conto ferrarine, che non puoi digerire se no desisti, e poi altre cose che stanno dicendo, perché se vengo io no meglio che non vieni tu, questo è l'unico posto in cui non vieni tu, altrimenti facciamo la zia poi che altro ti serve? la gazzosa ce l'hai? e quale mi serve? la convenzione, poi che altro? e le altre cose in maniera, le goglia bianche, il pacchettino, la figura dell'orsetto no, quelle sono quelle che piacciono a te, chiaro e poi? e poi, queste sono le cose che poi ho la solito snack e vedi tu, però abbondissimo, perché ho bisogno, perché non mi faccio, non mi faccio, ti vedo sciupato, hai bisogno, guardate, è tutto sciupato Lello, non mangia, è sciupato ha bisogno Lello, Lello facciamo un appello, Lello ha bisogno, ha bisogno di un par di scaf a due a due fino a quando dovendere di espre lo traduco perché mi sono lasciato proprio andare in questo slancio ho detto, Lello meriterebbe un paio di schiaffi, di riduini, come diciamo dalle nostre longitudini e latitudini a due a due fin quando non diventano dispari, è vero Lello? perché ti vedo veramente molto sciupato perché quando vuoi e come vuoi, no problem no problem no problem Lello no problem però, 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 deve stare due belle amici, Gabri e Anna Maria così, vedo tu la faccia che mi devi fare, caro, vedo la faccia che mi devi fare, caro vabbè, Gabri, Gabri, io te lo dico perché ormai lo conosco vecchio, il mio amico Lello timma da te, l'ho conosco come questo timma da te, il bug di affaire disse, ma questo non è il caso, sei più educato, vuoi fare il galantuomo, non andare oltre un consiglio, Gabri RAS RAS OMUR sono stato abbastanza perentorio nel senso, nel senso, andiamo, capito Gabri no, non do po' teniamo RAS OMUR perché se Lello, un disastro no, non do po' un fidanzato, secondo me perché? un pagliato, un dufa te la voglio dire, eh un pagliato, un fidanzato a dufa ah tu facci un pagliato ah cioè, nel senso, una caricata di mazzate, prima o poi se tu continui a importunare le donne degli altri e se non te la fa, il fidanzato di Gabri è probabile che ti mando io qualche amico qualche amico, non ci vieni tu, quando vuoi e come vuoi no, qualche amico pesante del San Paolo, lei cosa facciamo? e adesso da casa, poi c'è un bambino, un buon attore della barra e non c'è un bambino per te un bambino, non c'è la bocca del lupo cioè, questa è bella, io mi sto traducendo la minaccia che mi ha fatto Lello Lello dice, fai attenzione perché potresti ritrovarti tu steso in una bara senza nemmeno preavviso e tu uccideresti me faresti uccidere me tu, tu fai come dice il lupo e siamo d'accordo tutti e due fai come dire, fai il lupo da cattare il lupo ci puoi yorkshy il lupo non io, lo yorkshy è se tu, caro mio il lupo non ho il pelo da accarezzare Lello cioè, yorkshy è a me comunque anche questa è fatta ricordati la spesa ricordati la spesa che ha detto che vuoi? c'è una cosa di tutto, caro come dicono anche da queste parti una cosa di tutto vabbè, andremo a comprare una cosa di tutto che fai te ne scappare no, vieni, vieni al lupo non ti nascondite la zoccola non ti nascondite la zoccola vieni, vieni qua, yorkshy vieni, che lupo ti si aspetta vieni, 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 vieni yorkshy vieni al lupo, vieni, così, bello ti fai il gnozza beh, ti fai chute all'ispo bupile beh, ti fai chare che l'osso schizop e lupo ma stiamo scherzando e basta